Musica Nella selezione di un candidato pesano da una parte le competenze tecniche e dall'altra le cosiddette soft skills oppure, diversamente detto, le attitudini personali. Se invece le competenze tecniche le insegna la scuola, come fare a sviluppare le altre? Proviamo a chiederlo a Emanuela Truzzi, docente comunicazione e presidente della sezione piemontese del LIFE. Allora, abbiamo pensato, rispondendo a quelle che sono le aspettative delle aziende, che si lamentano del fatto che i giovani non sono in grado di avere quella flessibilità che tanto invece scrivono nei loro curricula, che è necessario che siano preparati invece ad affrontare poi il mondo delle aziende, che è ben diverso. Quindi la flessibilità, il saper lavorare in team e ancora di più anche osare, quindi cercare anche di proporre cose nuove, sono tre aspetti fondamentali e sono un po', diciamo, la chiave di lettura di questo micro master che stiamo progettando per il 2016 insieme a due miei colleghi, il dottor Massimiliano Serralunga e la dottoressa Cinzia Garetto, proprio per rendere efficace l'entrare in azienda. Infatti il nome sarà proprio Ready to Work, preparati per entrare in azienda. E' un discorso che vale solo per i giovani che si approcciano al primo impiego o vale anche per le altre generazioni che devono un po' reinventarsi? In questo caso il nostro micro master è rivolto proprio squisitamente ai giovani perché non si rendono ancora conto di cosa sia la realtà aziendale e quali siano le aspettative che l'azienda ha dai candidati che selezionano. Poi un altro discorso invece è quello che si può affrontare con le persone già adulte che già conoscono bene la realtà aziendale e devono sapersi vendere meglio ma questo è un altro aspetto. Grazie.